Pasquale Gravina, ritorno in Molise per la seconda giornata dello sport. Pasquale, dopo tanti anni che non fai più la pallavolo a livello agonistico, la tua attività, la tua vita si sposta tra Treviso e Milano. Ce la vuoi raccontare un po' quello che fai adesso? Sì, adesso sono sempre dentro la pallavolo con un ruolo un po' più defilato perché ho rilevato con i miei amici la ex Sisley. Quando il gruppo Benettono è uscito facciamo soprattutto formazione e addestramento di squadre giovanili. Tu sei il presidente del Valle di Treviso? Sono il presidente dai 12 fino ai 19 anni, ormai sono tre anni che continuiamo questa difficile ma molto importante opera di crescita dei ragazzi. Invece a Milano? Invece a Milano vado spesso perché sono un deformatore aziendale, cioè cerco di, anzi ormai sono anni di dialogo col mondo delle imprese cercando di far vedere le potenzialità che lo sport ha anche in termini di comunicazione dentro l'organizzazione aziendale. Sono due mondi che più si conoscono e più hanno da guadagnare l'uno con l'altro e da due anni sono abbasciatore sportivo per il gruppo Bosch con il quale stiamo facendo progetti nazionali. Quello del 2015 si chiamerà allenarsi per il futuro, quindi magari ci rivedremo in Molise con il progetto allenarsi. Sei ancora in contatto con gli ex dei campioni? Ovviamente sì, quella squadra ha rappresentato più di una squadra e più di un gruppo di persone che hanno vinto qualcosa. rappresenta la storia della Palamuro in Italia e penso che saremo amici per sempre.